Ciao a tutti, sono Marco Seggina e oggi in questo breve video cercherò di aiutarvi a capire meglio quale sia il cuscino più adatto per voi, in particolar modo se soffrite di mal di collo. Ciao, la domanda che mi viene posta più spesso dai pazienti che soffrono di cervicalgia, che essa sia acuta o cronica, è quella posso comprare un cuscino più adatto, forse è colpa del cuscino? Beh, sulla responsabilità del cuscino sarò molto sintetico, non credo che sia sempre il problema principale. Molto spesso, come ho già parlato nel caso delle lombalgie, le cause sono multifattoriali, quindi probabilmente un insieme di fattori che hanno portato a scatenare la sintomatologia di cui soffrite in questo determinato momento. Però il cuscino effettivamente può contribuire o positivamente o negativamente, quindi o boicottare la nostra guarigione, il nostro processo di autoriparazione dell'organismo, oppure quantomeno non incidere troppo negativamente o addirittura favorire leggermente il processo di riparazione o dare sollievo dai sintomi. Innanzitutto sarà il vostro fisioterapista a cui vi rivolgerete che, analizzando la tipologia di cervicalgia di cui soffrite, andrà a identificare se ci siano o meno le indicazioni per un cuscino specifico. Io mi limiterò a darvi alcune indicazioni che possono andare bene per le classiche cervicalgie meccaniche, quelle magari legate alla postura lavorativa, troppo tempo sedentaria, col capo protruso, quindi con capo leggermente protruso o flesso per molte ore della giornata, che dovrebbero darvi sollievo o almeno aiutarvi a conciliare il sonno, aiutare il sonno nelle fasi iniziali. La prima cosa, prima di arrivare ai cuscini, è quella di dire che ovviamente il cuscino cambierà a seconda della vostra corporatura e anche della vostra posizione preferita che assumete quando dormite. Ad esempio, se voglio dormire sul fianco, l'obiettivo del cuscino sarà quello di sorreggere zona cervicale e la nuca in modo da evitare delle inclinazioni eccessive che siano esse da un lato o dall'altro, quindi non andranno bene né cuscini troppo bassi né cuscini troppo alti. Per quanto riguarda invece la posizione supina, quando dormiamo supini, dovremo cercare di trovare un cuscino che ci permetta di mantenere nuca, quindi l'occipite della parte posteriore della nuca e il tronco su una linea retta. Quindi eviteremo magari cuscini troppo spessi che ci fanno stare molte ore in questa posizione qua. E poi un qualcosa che sostenga in maniera specifica la zona cervicale. Molto spesso in commercio si trovano dei semplici cilindri così che possono essere in gomma piuma o più evoluti in tipo in memory foam oppure potete trovare dei ausili come questi che si usano anche per fare gli esercizi. Io qualche volta suggerisco di provare a iniziare con un asciugamano arrotolato in modo da provare a modulare lo spessore, il diametro di questo asciugamano per trovare quello che dà più sollievo. Quindi se andiamo a dormire da supini mi posizionerò il cuscino cervicale proprio a sorreggere il collo. Ok? Questa è la posizione che andremo ad assumere. Ovvio che se di partenza la mia postura sarà particolarmente protrusa, cifotica, quindi nelle persone anziane, nelle persone che sono dotate di un'ipercifosi dorsale e quindi con il capo già di partenza protruso che non riescono a rettilinezzarsi e essere belle dritte, sarà utile usare un cuscino con l'aggiunta di un rotolo cervicale. Lo spessore di questo cuscino dovrà essere quello che voi andrete a identificare semplicemente provando a mettervi in piedi con la schiena contro una parete e a stare belli dritti. Se non riuscite a stare dritti a toccare con l'occipite il bacino e la zona dorsale contro il muro, allora vuol dire che avete una leggera ipercifosi e dovrete misurare ad esempio con le dita lo spessore di questa distanza quando voi cercate di stare belli a retti perché altrimenti rischiamo di andare a cercare di toccare con l'occipite la parete per provare quindi a mantenere il contatto di tutti i tre punti però portando in iperestensione la zona cervicale e con la classica sensazione di non riuscire a respirare bene e quindi di soffocamento. Queste brevi indicazioni si propongono semplicemente di darvi uno primo spunto, di poter fare alcuni test, alcune prove per dar sollievo al vostro problema. Non si vogliono assolutamente sostituire a quelli che possono essere i consigli di clinici esperti. Pertanto vi suggerisco di provare e di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e buona serata!